Qual è la tradizione ebraica e cristiana? Non c'è mai la parola contemplazione se non una volta di quando dice che la gente era tutto intorno là a vedere lo spettacolo della croce di Gesù, è l'unica volta che si parla di contemplazione, che per quello che avevano contemplato tornavano a casa battendosi il petto, ma non c'è la contemplazione, di fatto tutto è azione, l'importante è che sia un'azione positiva, buona, no? Allora è azione quella di una mamma che prepara da mangiare per i suoi figli, quello di un medico che cura gratis i malati e quello di un uomo che si consuma nella supplica e nella preghiera per tutto il mondo. È sempre azione, l'importante è che sia azione positiva. Questa azione è anche fatica ed è interessante che nei testi sapienziali, è vero, molto spesso si metta accanto l'amore, la positività della relazione con la fatica. Io mi accorgo della fatica, cioè del lavoro del tuo amore. Ecco, questa azione, appunto, questa continua azione è l'esigente dinamica che va restituita a tutte le persone. È vero? Adesso siamo in un momento in cui tante persone perdono il lavoro e, vabbè, si potrebbe dire diamogli un contributo di disoccupazione. Ecco, io ho preferito pensare che più che dargli un contributo bisognava ridargli un'azione che in qualche modo pareggiasse quell'improvvisa inattività che i guai della situazione attuale, è vero, hanno creato nella sua vita. È lì e non fa niente, questo è il vero problema, non fa niente, perché quando ci tolgono l'azione ci tolgono quasi il respiro della vita. Allora, quello che è importante è quello di restituire delle dinamiche, è vero? Adesso abbiamo messo in piedi questa faccenda del mutuo soccorso, che sarebbe io, pur di farti fare qualche cosa, ho ricevuto dagli amici qualche aiuto economico, se devi pagare la bolletta del gas ti posso venire incontro. Però anche tu hai una cosa preziosissima da darmi, hai un tempo, hai delle ore che tu puoi riempire della bellezza e della positività della tua azione. Allora, vieni a darmi una mano, facciamo insieme qualche cosa, quindi io ti aiuto in un modo, tu mi aiuti in un altro, si capisce che appena trovi un lavoro mi devi abbandonare, perché il lavoro è una cosa seria e privilegiata e quindi devi subito portarti là, intanto che aspetti però perché? È perché mi preoccupa molto, è vero, l'inazione. E quindi la mancanza del lavoro non è semplicemente la disoccupazione professionale, ma è anche proprio una privazione gravissima della stessa natura umana che si celebra, si esplicita, si manifesta, si collega proprio attraverso quello che fai. E' per questo che è molto importante e molto bello che nella nostra Costituzione, nella Costituzione del nostro Paese, la prima parola importante sia proprio la parola lavoro. L'altra sera sentivo una lezione di un bravo economista che diceva proprio appunto di una certa insidia che è stata portata proprio a quel primo articolo della Costituzione, perché diceva che ha detto che tutti lavorano. Eh ma allora è un male, se non lavorano tutti vuol dire che mancano delle energie, delle forze e dei contributi e che ci sono quindi evidentemente anche rischi gravissimi di approfittamento, di inerzia cattiva, e quindi cose che fanno male e alle singole persone e all'intera società. Perché invece quello che è importante è proprio il lavoro di tutti, che va inteso come avevano bene in mente i padri costituenti, non semplicemente come un lavoro che produce un servizio o produce un manufatto, ma più profondamente appunto la fatica. La parola lavoro è una parola latina che non vuol dire semplicemente il lavoro produttivo, ma vuol dire la fatica che tu fai, è vero che esprimi dalla tua persona e che rivolgi al mondo in cui vivi. Ecco, allora apprezza, diciamo così, il lavoro di tutti. Noi valorizziamo il lavoro di un bambino che impara a leggere e a scrivere, apprezziamo il lavoro di questo bravissimo operatore che è qui con la sua macchina, apprezziamo il lavoro di chi guida l'autobus per Bologna, apprezziamo anche il lavoro e la fatica della persona che sembra ormai fuori dalla capacità di lavorare come produzione, ma che invece lavora moltissimo con i sentimenti, con la memoria, con la generosità con la quale offre la sua vita, la mette a disposizione e quindi con una crescita semmai. È vero, la nostra è una stranissima sapienza che non va mai in pensione. Noi pensiamo che le persone non debbano andare mai in pensione, ma che semmai anzi debbano crescere nella ricchezza e nella profondità del loro contributo. È vero? E quindi ci sono persone che sono importantissime solo perché ci sono. È vero? Quante volte desidereremmo rivedere lo sguardo di nostra madre? È vero perché? È perché ci faceva vivere. Lo cerchiamo in altri modi, ma quanto rimpiangiamo la sua potenza. La potenza. Ci sono dei nonni potentissimi. In un film recente ho visto quella cosa bellissima che era molto in usa nelle nostre campagne e che nel dialetto della mia terra si chiama filos. È vero? Ed era quella cosa che avveniva quando nell'inverno le giornate erano corte corte, le stanze erano fredde fredde, c'era tempo tempo, e allora alla sera, ma ancora piuttosto presto, si andava in stalla, che era l'ambiente meno freddo o più caldo della casa, e lì si faceva conversazione, ore di conversazione. E i nonni raccontavano memorie antiche, le donne raccontavano usi, costumi, superstizioni, buone abitudini della vita, i giovanotti raccontavano qualche cosa di un po' spinto. È vero? I bambini ascoltavano ed era una grande conversazione. Quanto è importante, è vero? Tutto questo come produttività vera, profonda della vita. Oggi c'è poca conversazione. È vero? Tutto funziona automaticamente e quindi si comunica poco, si confronta poco. È uno dei problemi più delicati anche della pedagogia, secondo me, e della formazione delle persone e dei giovani, e del diritto da riattribuire alle persone anziane. Siccome è in pensione non può più fare niente. E chi ti dice che non possa incominciare adesso una conversazione più libera, più diretta, più affettuosa, e quindi alla fine più feconda? Ecco, quindi questa azione, che è il lavoro, è veramente il principio, e la società è bella ed è buona perché può godere del lavoro di ognuno. Ecco, anche tu sei molto importante e io devo aiutarti a esprimerti fino in fondo. E quindi la valorizzazione di ogni azione e attività vuol dire la valorizzazione di ogni personalità, di ogni età della vita, persino dell'infermità. Persino dell'infermità. Si va all'ospedale con un minimo di attenzione sapienziale e si scoprono delle cose straordinarie, insomma, no? L'altra notte mi chiamano perché una persona se ne stava andando, c'era sua moglie vicino che desiderava un segno di presenza, di affetto. E sono andato lì, va bene, era alle due di notte, però lì c'erano quattro donne che erano un medico e tre operatori sanitari, tutti intorno, ma con una delicatezza, una potenza, una signorilità. Sono venuto fuori, estasiato da questa liturgia, ecco, del tutto laica, perché ognuno faceva semplicemente il suo lavoro. Ma come diventava importante quel momento per quella persona, per quella donna che stava per rimanere da sola. e come era importante potersi esprimere perché le facevano delle domande sulla loro vita, insomma, una cosa veramente bellissima, no? Ecco, anche proprio da un episodio che di per sé è molto difficile, è molto negativo, però quanto bene può scaturire se ognuno fa la sua parte. Quindi questo invitare al lavoro, perché anche la tua parte è molto importante, oggi è un elemento ancora molto prezioso, no? Perché se no ci sono pochi responsabili e tanti che non hanno responsabilità, ma se uno non ha responsabilità, non ha personalità e quindi non ha neanche un ritorno vero, no? E quindi vive la sua azione come già originariamente svalutata. E il rischio è un pochino quello di dire che la Repubblica è fondata sul capitale, no? Oppure sugli scienziati, invece non è mica vero, è fondata sul lavoro di tutti, perché lo scienziato sarebbe in mutande se non avesse intorno un sacco di aiuti, è vero, di contributi e di sostegno, no? A partire, penso, magari dall'affetto della sua donna, dagli occhi dei suoi figli, però tantissime cose senza le quali nessuno potrebbe vivere. Quindi viviamo l'uno dell'altro, viviamo l'uno dell'altro. È vero, i cristiani sono andati a finire col dire che Dio è diventato un fatto umano perché Dio è diventato uno di noi, e però in questo, certo, questo Gesù ha tirato fuori Dio dal Tempio e l'ha buttato nelle relazioni umane e nella vita della gente, dove lo vai a incontrare, è vero, il nucleo di verità fondamentale. Lo trovi nella vita delle persone, nella nostra vita insieme, con tutti i suoi travagli, ma certamente con un grande prevalere della bellezza e della bontà.